Musica Buongiorno, bentrovati al TG2000 di Mezzogiorno, subito i titoli di questa edizione. E' crisi in casa 5 stelle dopo il voto in Sardegna. L'appello mancano 300.000 voti stamattina nell'Aula del Senato. Il voto al decretone sul reddito di cittadinanza. La protesta del latte sardo, assalto armato a una cisterna carica in provincia di Sassari, non sono pastori, dice Salvini, ma delinquenti in questi minuti nuove trattative sul prezzo. Colpevole di abusi su due tredicenni, si conclude il processo di primo grado sul cardinale australiano Pelle. Il tesoriere vaticano rischia fino a 50 anni di carcere. Domani l'udienza di condanna e il porporato si proclama innocente. Dunque questi titoli in apertura alla resa dei conti fra i pentastellati dopo la debacle in Sardegna commessi diversi errori. ammettono ora nel movimento in corso al Senato il voto sul 700 emendamenti al decretone che introduce quota 100 e reddito di cittadinanza. Augusto Cantelmi. Spicca il volo, affondano invece i Cinque Stelle. Dal voto sardo l'equilibrio precario tra le forze di governo. Salvini ribadisce che non ci saranno conseguenze per l'esecutivo, concetto ripetuto sia da Conte sia da Di Maio. Nel pomeriggio un possibile vertice di maggioranza, mentre i Cinque Stelle preparano cambiamenti. Andremo avanti con la riorganizzazione, tra domani e dopodomani ci saranno novità importanti per il movimento. Sul voto delle europee di maggio si concentrano invece gli sforzi del centro-sinistra che in Sardegna tutto sommato ha tenuto. Possono fare di una lista progressista, unitaria alle elezioni europee, la vera alternativa alla Lega di Salvini. Al Senato invece è ripreso l'esame del decretone che introduce quota 100 e reddito di cittadinanza. Oltre 700 gli emendamenti tra le novità del sussidio. Per essere definita congrua, l'offerta di lavoro dovrà prevedere un salario di almeno 858 euro. Resta lo scontro sulla TAV, dopo le parole del ministro dell'economiatria, che mette in guardia dal rischio di un calo di investimenti stranieri in Italia se si cambiano gli accordi già sottoscritti come quelli sull'alta velocità. In Sardegna restiamo per la questione del latte. Nuovo assalto a un'autocisterna, volto, coperto, armi in pugno costringono l'autotrasportatore a scendere e danno il camion alle fiamme. In corso un nuovo tavolo sul prezzo del latte caprino. Beatrice Bossi. Dell'ultimo attacco ad una cisterna di latte, alle prime luci dell'alba rimane solo lo scheletro bruciato di un camioncino. Con il passare delle ore e i particolari faranno assomigliare sempre di più il blitz di protesta ad un vero e proprio atto terroristico. Siamo a Nule, in provincia di Sassari. Il conducente della cisterna ha quasi finito il giro degli ovili. Mancano pochi chilometri all'arrivo nel caseificio. Due uomini con il volto coperto e armati di pistola lo bloccano e lo costringono a scendere dal mezzo. Lo legano ad un albero e danno alle fiamme la cisterna. Pochi minuti e fuggono nelle campagne facendo perdere le loro tracce. Non si tratta di pastori ma di delinquenti. Il coro unanime della politica dal ministro Salvini al neo governatore Solinas tutti condannano il gesto. Il blitz va in scena a poche ore dal vertice. In prefettura Sassari, già cominciato, in cui industriali e pastori dovranno trovare l'intesa sul prezzo del latte. Si riparte da dove le trattative si erano arenate. 72 centesimi al litro l'offerta dei caseifici è rifiutata dai pastori che puntano almeno ad un euro. L'accordo potrebbe trovarsi sugli 80 centesimi come già preannunciato. Entro fine giornata la questione potrebbe quindi essere risolta. Trovato carbonizzato a Roma un senza fissa dimora. Non si fermano le morti per freddo nella capitale in quello che sarà ricordato come l'inverno col maggior numero di vittime. Questa è la numero 13 dall'inizio della stagione fredda. La tragedia la notte scorsa lo state venendo nella baraccopoli di Casal Bertone. I vigili del fuoco intervenuti per spegnere l'incendio hanno rinvenuto il corpo. Si tratterebbe di un uomo che non aveva con sé documenti. L'incendio sarebbe stato causato da un fuoco acceso forse per riscaldarsi dal freddo. Avanti con la cronaca perché adesso le immagini che state per vedere si riferiscono al blitz della polizia nella capitale. Precisamente nella borgata Quartaccio. eseguita dalle prime luci dell'alba la notifica di 20 ordinanze di custodia cautelare in carcere per violazione della legge sugli stupefacenti, nonché la perquisizione di appartamenti. Sgominata una gang le cui modalità di gestione e di controllo del territorio ricordano, sostengono gli investigatori, analogie con la serie TV Gomorra. decisiva la tracciatura dei cellulari per risalire ai boss, rinvenuti soldi Rolex stupefacenti. Lo state vedendo. E anche gioielli. Il cardinale australiano Pell, prefetto in congedo della segreteria vaticana per l'economia, ha giudicato colpevole in primo grado per pedofilia su due tredicenni. Sentenza emessa a dicembre, ma resa nota oggi, domani la condanna, rischia fino a 50 anni di carcere. Federico Plotti. Colpevole di abusi sessuali compiuti su minori, la sentenza del tribunale di Melbourne cade come un macigno sulla testa del cardinal George Pell, tesoriere del Vaticano ed ex membro del C9 il Consiglio di Cardinali che coaudiova Papa Francesco nel governo della Chiesa. La notizia era già filtrata a dicembre, ma finora non era mai stata confermata per un veto imposto dal tribunale della città australiana. I fatti contestati a Pell, 77 anni, risalgono alla metà degli anni 90, quando era arcivescovo di Melbourne. Il verdetto dei 12 membri della giuria della Country Court dello Stato di Vittoria è stato unanime. Il porporato, secondo i giudici, ha abusato di almeno due ragazzini del coro della cattedrale. Il processo di primo grado era iniziato due anni fa. Da allora Pell, per difendersi nel dibattimento, aveva lasciato Roma e la tesoreria vaticana anche se formalmente il suo ruolo di responsabile economico della Santa Sede non è mai decaduto. Il cardinale, che è stato rilasciato su cauzione per subire un intervento al ginocchio, rischia adesso fino a 50 anni di carcere. L'udienza per la condanna inizierà domani e lui ha già annunciato che farà appello. La sentenza è stata resa nota due giorni dal termine del summit in Vaticano sulla pedofilia nella Chiesa e nel mese in cui Papa Francesco ha approvato la riduzione allo stato laicale di un altro cardinale di alto rango, Theodore McCarrick, per abusi sessuali compiuti su minori e adulti. Restiamo in Vaticano perché proprio pochi istanti fa il direttore ad interim della sala stampa della Santa Sede Alessandro Gisotti sul caso Cardinal Pell ha rilasciato la seguente dichiarazione. La vedo con voi. La Santa Sede si unisce a quanto dichiarato dal presidente della conferenza episcopale australiana nel prendere atto della sentenza di condanna in primo grado nei confronti del cardinale George Pell. Una notizia dolorosa, che siamo ben consapevoli, ha scioccato moltissime persone non solo in Australia. Come già affermato in altre occasioni, ribadiamo il massimo rispetto per le autorità giudiziarie australiane. In nome di questo rispetto, attendiamo ora l'esito del processo d'appello, ricordando che il cardinale Pell ha ribadito la sua innocenza e ha il diritto di difendersi fino all'ultimo grado. In attesa del giudizio definitivo, ci uniamo ai vescovi australiani nel pregare per tutte le vittime di abuso, ribadendo il nostro impegno a fare tutto il possibile affinché la Chiesa sia una casa sicura per tutti, specialmente per i bambini e per i più vulnerabili. Per garantire il corso della giustizia, il Santo Padre ha confermato le misure cautelari già disposte nei confronti del cardinale Pell dall'ordinario del luogo al suo rientro in Australia, ossia che in attesa dell'accertamento definitivo dei fatti, al cardinale Pell sia proibito in via cautelativa l'esercizio pubblico del Ministero e, come di norma, il contatto in qualsiasi modo e forma con minori di età. E la giustizia australiana persegue anche un altro prelato, risulta sotto indagine infatti l'arcivescovo cattolico di Brisbane, Mark Collebridge, per un caso di coperture riguardo come aveva trattato una donna che aveva offerto informazioni su abusi a minori entro la sua diocesi, oltre un decennio fa. Collebridge aveva appena partecipato, peraltro, al summit antipedofilia in Vaticano. Adesso apriamo il capitolo Brexit con i laboristi pronti a chiedere un secondo referendum. Il leader del centro-sinistra, Jeremy Corbyn, decide di sostenere tre emendamenti al fine di allontanare di una Brexit senza accordo nel caso in cui la Premier, Theresa May, non riesca a far passare il suo piano di divorzio con l'Unione. Fra uno di questi emendamenti, proprio la convocazione di un secondo referendum Brexit, la mossa di Corbyn, da sempre contrario a una seconda consultazione popolare, tende a fermare la fuga di deputati labur e al tempo stesso punta sulla speranza che nel Parlamento manchino i numeri per chiedere di nuovo il referendum. Restiamo all'estero. Dramma Venezuela, scaffali vuoti nei supermercati dove ormai non c'è più da mangiare. Si moltiplicano gli appelli alla non violenza, ma una troupe televisiva viene trattenuta da Maduro perché non aveva gradito le domande rivolte. Marco Bergamaschi. Tutto il Venezuela aggiungono notizie di carenze di alimenti, ma nei supermercati di Caracas, controllata dal governo che nega la crisi umanitaria, questa penuria, almeno apparentemente, non sembra esserci, anche se i prezzi sono altissimi per via dell'inflazione e dell'inistabilità e in pochi possono permettersi di acquistare i generi di prima necessità. Prima racconta questo rivenditore di frutta e verdura avrebbero comprato molto, ora vengono qui ogni giorno e acquistano poco per volta. Intanto arriva la denuncia di Univision, una maggiore rete televisiva statunitense in spagnolo. Una sua echipe è stata fermata per diverse ore nel palazzo presidenziale perché durante un'intervista a Maduro il giornalista Jorge Ramos ha mostrato al presidente immagini di giovani venezuelani che mangiavano da un camion della spazzatura e che sostenevano che se ne deve andare. Le registrazioni, raggiunge il giornalista, non sono state restituite. Se gli Stati Uniti hanno chiesto di ottenuto una riunione di urgenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU sul Venezuela, i paesi del gruppo di Lima denunciano Maduro per crimini contro l'umanità, ma l'invito unanime del Vertice al quale ha partecipato il leader dell'opposizione Guaidò è di evitare l'uso della forza. Il vicepresidente americano Pence annuncia nuove aiute umanitarie e propone il congelamento dei beni petroliferi venezuelani. Il viaggio del giovane Kim, il leader coreano, dopo due giorni e mezzo e 4 mila chilometri in treno, il leader mette piede in Vietnam e il giorno degli arrivi per il Vertice di Hanoi. Con Trump dopo l'incontro a Singapore i due torneranno così a stringersi la mano. Luigi Ferraiolo. Il primo a sbarcare in Vietnam è stato Kim Jong-un. Il suo treno blindato, reliquia del passato voluto dal fondatore della dinastia Kim Il-sung, dopo un viaggio di oltre 3 mila chilometri, è arrivato questa mattina al confine col Vietnam a Dong Dang e da lì il leader maximo nordcoreano ha proseguito per Hanoi in auto con l'iniziale coreografica accompagnamento dei bodyguard presidenziali. Donald Trump, che non ama le trasferte all'estero, arriverà con più calma a bordo del suo Air Force One per il Vertice con Kim di mercoledì 27 e giovedì 28 febbraio. Nell'incontro c'è in ballo la dichiarazione della fine della guerra di Corea con lo stop all'arsenale nucleare nordcoreano e i corrispettivi aiuti economici a Pyongyang da parte di Stati Uniti e Sud Corea. Sarebbe un successo epocale per Trump ma anche per Kim. La guerra di Corea è ufficialmente ferma all'armistizio del 1953, cristallizzato sul 38esimo parallelo. Tra i due paesi non esistono praticamente collegamenti. Se i due leader Adanoi dichiarassero che la guerra è finita, scriverebbero una pagina di storia e anche da Nobel per la pace. Si allarga il Consiglio di Presidenza dell'Osservatorio Giovani Editori con sei governatori di banche centrali europee insieme per elevare il grado di cultura economica finanziaria delle nuove generazioni. L'ufficio di Presidenza dell'Organizzazione Riunito, lo state vedendo nella foto, è presiduto da Andrea Ceccherini, ha infatti nominato come nuovo componente anche il governatore della Banca Centrale del Portogallo, Carlo Scosta da Silva, oltre a quelli già presenti dei Paesi Bassi, della Francia, dell'Italia, della Germania e della Spagna. Adesso torniamo a occuparci di un argomento caldo, quello dei vaccini. Secondo il Ministero, l'Italia è vicina alla soglia di immunità, ma a tenere banco la polemica sull'ex infettivologo Franchi Cerco, bimbo con parotite, ha scritto su Facebook per un esperimento. Fabio Bolzetta. Campagne di sensibilizzazione, come questo spot, assieme a norme per favorire la prevenzione nel nostro Paese e contemporaneamente, nel senso opposto, il pugno dei movimenti Novax. Nel braccio di ferro sulle vaccinazioni, ecco i primi dati dopo l'estensione dell'obbligo, entrata in vigore per legge nell'agosto 2017. L'Italia si avvicina finalmente alla soglia di immunità. Per i nati del 2016, infatti, l'esavalente, prevista per i bambini oltre i tre mesi, ha raggiunto il 98%. Secondo quanto riportato oggi da Repubblica, che cite i dati sulle coperture delle regioni trasmesse 11 giorni fa al Ministero della Salute, l'Italia torna a credere nei vaccini. In testa, Toscana, Lazio, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. Diversa la situazione per l'antimorbillo e la quadrivalente, quest'ultima in particolare, ancora non raggiunge infatti la cosiddetta immunità di gregge, ovvero la soglia di sicurezza, fissata al 95% della popolazione quando vaccinata. E mentre fa discutere il post su Facebook di un ex medico, Novax, che annuncia di cercare un bimbo con parotite per sottoporlo ad un esperimento, sul caso del bambino immunodepresso che non è rientrato a scuola, non essendo alcuni suoi compagni vaccinati, la preside dell'Istituto Comprensivo di Via Cenada a Roma ha confermato il suo rientro per l'11 marzo. In chiusura vogliamo alle Galapagos con le immagini della natura che dà spettacolo perché è stata ritrovata, eccola qui, una tartaruga gigante ritenuta estinta da 113 anni sull'isola Fernandina. L'esemplare, la state vedendo, una femmina adulta della specie Fantasticus è stata individuata da una spedizione di esperti del Parco Nazionale. La notizia è ritenuta clamorosa dalla comunità scientifica. La rara testuggine è stata ribattezzata come l'isola, cioè Fernandina. Anche se ha qualche anno in più. C'è terza pagina con la musica degli Zen Circus, una mostra sui pittori macchiaioli. Il TG2000 torna alle 18.30. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.